Allo 049 9394813 risponde la segreteria del comune di Villa del Conte, alla quale si può chiedere il cellulare di Graziella Vigri, assessore alla solitudine. Una novità assoluta, un servizio a quelle persone che per vari motivi e a varie età non hanno più una rete familiare e devono comunque districarsi nei problemi di tutti i giorni. Beh, io ho 5.700 abitanti circa, quasi 3.000 famiglie, mi viene da dire che persone che si sono rivolti per motivi non tanto di solitudine intesa come essere soli, ma appunto difficoltà ad affrontare i problemi perché non si sa dove andare, fino adesso sicuramente ha più di 1.000 persone. L'assessorato è stato affidato, dice la Argenti, a Graziella Vigri, una persona di esperienza che ha anche il referato ai servizi sociali e una lunga esperienza nel volontariato. Solitudine, come la intendo io, non conosce età. Si può passare dal 18enne al 99enne che si trova in un momento in cui non sa dove andare per risolvere una questione privata, personale, piuttosto che burocratica. Assieme all'assessore e al sindaco, perché mi metto in prima linea pure io, cercheremo una soluzione migliore nel terreno competente. Una pratica burocratica, un aiuto in casa, un periodo di fragilità, ma anche la spesa, un risponditore automatico che non si sa come affrontare. Una persona che dia una mano può fare la differenza e salvare una vita sola. A Villa del Conte si potrà fare contattando direttamente l'assessore alla, o verrebbe da dire, contro la solitudine. Abbiamo i cellulari personali che qualsiasi cittadino può utilizzare, può richiederli presso la segreteria e abbiamo i nostri orari di ricevimento, ma in ogni caso il cellulare può essere utilizzato in qualsiasi momento.